Dal maggio 2017 a Tolentino è stato riaperto al pubblico dopo un lungo periodo di inattività il Centro per le Arti Politeama, contenitore culturale polifunzionale, modernissimo negli spazi, nelle tecnologie e nei servizi, che dispone di sale per la danza, per la musica, per il canto e la recitazione, idoneo per ospitare mostre, convegni, meeting privati e presentazioni di vario genere. La struttura dispone di una sala spettacolo da 168 posti, una polivalente, una audiovisivi, tre sale prova, un locale tecnico da poter adibire a sala di registrazione ed una caffetteria. Sono inoltre presenti camerini e spogliatori di servizio. La governanza del Politeama è della Fondazione Franco Moschini ed è affidata ad un consiglio direttivo composto, oltre che dal Presidente Franco Moschini, da quattro membri, di cui due nominati dallo stesso Moschini e due dal Comune di Tolentino. Fin dalla sua riapertura il Politeama svolge un'importante in meritoria funzione di luogo di creazione della cultura e di formazione artistica, ospitando i corsi di danza del Liceo Coreutico, del Centro Teatrale Sangallo, della Scuola Danza Ami, oltre a gran parte delle lezioni dell'Unitra di Tolentino. Ogni anno il Politeama propone stagioni artistiche, con oltre 30 eventi live, rassegne tematiche, tutto organizzato in collaborazione con le principali realtà locali. Oggi il Politeama è entrato a pieno titolo tra le eccellenze della città di Tolentino e come tale già inserito nella rete Tolentino Musei, insieme al Teatro Vaccai, alla poltrona Frau Museum, al Museo Internazionale dell'Umorismo, alle Terme Santa Lucia, al Castello dell'Arancia e al Museo Archeologico. L'amministrazione pezzanesi, già nel 2019, con deliberazione della Giunta, nell'ambito della propria azione di sostegno alle attività culturali e nella logica della rete e delle eccellenze, ha partecipato in maniera sostanziale alla gestione e programmazione delle attività del Politeama, supportando e consolidando un'offerta culturale ricca. Ovviamente è intendimento dell'amministrazione proseguire a implementare questa strategia e a seguito delle intese intercorse con la Fondazione Moschini e la direzione del Politeama sui reciproci rapporti, è stato sottoscritto un accordo valido fino al 2021 che stabilisce che il Comune partecipa attraverso l'azione dei propri consiglieri all'interno della Fondazione Moschini e con la partecipazione del Sindaco alla definizione delle linee guida dei programmi artistici e dell'offerta culturale del Politeama. Il Comune avrà a disposizione la sala spettacolo del Politeama per iniziative da esso promosse per un totale di 20 giornate fino al 31 agosto 2021. Il Comune patrocina e sostiene l'attività del Politeama con un contributo finanziario a favore della Fondazione Franco Moschini pari a 65 mila euro. L'accordo è stato approvato all'unanimità dalla Giunta Municipale.